Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia per proseguire questa nostra diretta con il nostro approfondimento che oggi ci porterà come avete visto prima con il collegamento con Francesca Santoro sul Coglio. Ci porterà sul Coglio perché quest'area assieme al Coglio sloveno, assieme alla Borda sarà candidata, anzi è candidata a un riconoscimento molto importante, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Siamo ancora alle battute iniziali diciamo così di questo percorso e ne parleremo assieme al sindaco D'Olegna del Coglio, Diego Bernardis che è in studio con noi. Buongiorno sindaco e benvenuto D'Olegna del Coglio assieme a Cormons, uno dei due comuni capofila di questa candidatura. Tra poco ne parleremo, tra poco racconteremo tutto, torneremo a vedere anche le splendide immagini del Coglio. Prima però un saluto anche a Maurizio Ferrari che è rimasto con noi come sempre. Buongiorno Maurizio. Pronti anche questa mattina a vedere quelle che sono le notizie online ma anche qualche approfondimento e qualche spunto su questi paesaggi, su questi territori così belli. Sicuramente, tra poco torneremo anche da Francesca Santoro sul Coglio oggi splende il sole, l'abbiamo visto prima, ce l'hanno confermato anche gli esperti dell'Osmer Arpa. Oggi sarà anche una bella giornata sul fronte meteo ma adesso cominciamo a parlare sindaco di questa candidatura. Dicevamo, siamo proprio agli inizi. Io le chiederei innanzitutto di spiegarci l'idea di questa candidatura, l'idea di questo progetto che mette assieme due aree che si trovano in due stati diversi. Il Coglio lo conosciamo, sappiamo che si estende anche in Slovenia però questa idea di unicità di un territorio forse non è molto percepita. Il vostro obiettivo con questa candidatura è anche quello di passare questo messaggio. Certo, il nostro obiettivo è proprio quello di far conoscere alla platea mondiale in questo caso tutto l'areale del Coglio. L'areale del Coglio che non comprende solo la parte italiana che noi conosciamo ma comprende ovviamente tutta la parte sita nella Repubblica di Slovenia e sita nel comune di Burda. Burda che in sloveno significa proprio Coglio. L'idea è partita per valorizzare, per promuovere questo territorio che ha delle caratteristiche di unicità e di universalità che sono i criteri fondamentali per un riconoscimento UNESCO ed è partita perché a differenza di altri areali, di altri territori che sono già stati riconosciuti e che hanno tra le loro peculiarità un paesaggio vitivinicolo, un paesaggio naturalistico che potrebbe essere simile a quello del Coglio il Coglio ha quella marcia in più, ha il fatto di essere un territorio trasfrontaliero che nel corso dei secoli non è stato, nonostante guerre, nonostante varie vicissitudini che hanno attraversato sia il territorio e sia le popolazioni che hanno interessato anche le popolazioni che vi abitavano, è sempre riuscito a ricostruire ovviamente quella integrità paesaggistica e quella integrità anche di vita delle genti che vi abitano. Noi abbiamo definito questa candidatura come una candidatura di un paesaggio rurale, all'interno di questa definizione nel rurale noi vogliamo valorizzare, ripeto, non solo l'aspetto peculiare, paesaggistico e vitivinicolo ma anche gli aspetti legati alla storia, alla cultura, alle tradizioni, al plurilinguismo perché è bene ricordare che il Coglio da sempre nei secoli oltre alla definizione Coglio in italiano sia per quanto riguarda il ladino e il friulano è stato definito Quei, in tedesco Indeeken e in sloveno Burda quindi l'unicità proprio di definire un territorio unico e riconosciuto universalmente. Ecco, questi sono un po' i tre punti forti diciamo così di questa candidatura, poi magari li spiegheremo, li racconteremo meglio. Ci ricorda Sindaco quali sono i comuni che hanno aderito a questa candidatura? Certo, ci sono otto comuni per quanto riguarda la parte italiana e partiamo a settentrione dal comune che io rappresento, ovvero Dolegna del Coglio per proseguire col comune di Cormons, per proseguire col comune di Capriva del Friuli per proseguire ancora col comune di Mossa, col comune di San Lorenzo Isontino, di Farra di Sonzo, di San Floriano del Coglio e finire col capoluogo con Gorizia. Per la parte slovena, l'intero areale Coglio, in parte della Repubblica slovena, è costituito ed è rappresentato dal comune di Burda. Che è un comune grande, abbastanza grande, rispetto ai piccoli San Floriano del Coglio. è un comune che dal punto di vista territoriale si estende quasi quanto tutti gli otto comuni della parte italiana perché è bene ribadire che allo stato attuale, visti gli attuali confini amministrativi, il Coglio è per un terzo in parte italiana e per due terzi in parte nella Repubblica slovena, appunto nel comune di Burda. Ritorniamo adesso da Francesca Santoro, che vedo pronta per un altro collegamento. Francesca, vi restituisco la linea. Sì Angela, adesso vi mostriamo degli aspetti storici legati al Coglio perché intorno a noi ci sono tre edifici importanti legati alla storia. Sì, ci troviamo proprio alle spalle di quello che è il Castello di Spessa che prima abbiamo intravisto quando eravamo al Golf Lab, il Castello di Spessa che nasce già nel Medioevo e poi ha tutta una storia particolare, soprattutto nel Settecento. Fu anche ospite Giacomo Casanova, insomma, quindi anche questo personaggio è passato per di qui. Subito dietro abbiamo anche il palazzo ex Arci Vescovile, cioè il Vescovo alla fine dell'Ottocento decise proprio che questa zona era la sua zona preferita per passare il periodo estivo e quindi fu sede dell'Arci Vescovile e di tutto il territorio voriziano. Oggi invece è di un'azienda vinicola? Oggi è di un'azienda vitivinicola che proprio anche grazie a questo discorso della candidatura UNESCO vuole investire ancora e vuole migliorare ancora di più quello che è questa area paesaggistica. Subito dietro abbiamo un altro palazzo storico, la Villa Russiz. Andremo a vedere poi. Villa Russiz, altro palazzo insomma con una storia molto particolare, meritevole anche essa di entrare all'interno di questo unico corpo che farà la candidatura UNESCO. Ecco, qui si vede appunto il discorso paesaggistico che sono degli scorsi di continuo da Dolegna del Coglio passando per Cormons, passando per Capriva fino ad arrivare poi a Gorizia e San Floriano. Ce ne sono di bellissimi da tutte le parti. Qui mi piace anche sottolineare l'aspetto che all'interno della candidatura c'è un aspetto anche storico che è proprio quello che ci caratterizza in maniera molto particolare e purtroppo anche ai noi in maniera drammatica. Questo confine che l'uomo ha messo a dividere il Coglio italiano e la Berda slovena è un confine appunto messo dall'uomo. È un confine che ha diviso una cultura unica, una cultura rurale che ci accomuna sin dai tempi dell'impero sburgico ma anche oggi terra friulana italiana con la terra slovena. Ecco, la cultura rurale di chi vive all'interno di questo territorio è una cultura simile. Simile perché c'è la vita spesa all'interno della vigna. Simile perché c'è la vita spesa con la propria famiglia dietro a quello che è il proprio lavoro quotidiano. Anche qui vediamo e sentiamo perché ci sono macchine operatrici che stanno lavorando continuamente all'interno della vigna che sta diventando anche punto attrattivo. Qui possiamo vedere, il proprietario è assolutamente molto attento a questo, la vigna diventa anche attrazione nel senso che si inizia a portare il turista a vedere quello che è la vigna, a vedere quello che poi è tutto un lavoro come dicevo prima dei vignaioli che parte non solo dalla cantina ma parte proprio dal lavoro fatto sulla terra e quindi grazie anche a questa attenzione queste vigne diventano poi, come vedete, degli scorci veramente belli anche all'occhio e quindi anche al paesaggio. E proprio questo carattere trasfrontaliero è una carta in più per la candidatura? Assolutamente, questa è la carta che noi riteniamo probabilmente la carta più importante territori vitivinicoli che sono diventati patrimonio dell'UNESCO, italiani ci sono. Noi puntiamo non solo all'aspetto vitivinicolo ma puntiamo soprattutto all'aspetto culturale, rurale paesaggistico e storico aggiungo io, è trasfrontaliero, questa è secondo noi la carta vincente e che riteniamo sia meritevole di essere riconosciuta come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Grazie al Sindaco per queste spiegazioni e adesso noi ci spostiamo in un altro scorcio del Coglio. Grazie a Francesca e al Sindaco di Capriva e anche a Fabio Di Bernardo per queste immagini. Il Sindaco di Capriva ci ha trasmesso un po' attraverso le sue parole anche le emozioni, l'umanità diciamo così che c'è dietro a questa candidatura che sicuramente nel caso in cui andasse a buon fine avrebbe un importante valore anche per l'economia del territorio. Un aspetto di cui parleremo tra poco, Maurizio a te la parola per qualche curiosità o qualche aggiornamento anche dal web. Magari in questo senso visto che parliamo della candidatura e siamo entrati nel vivo andiamo a leggere proprio anche delle dichiarazioni che sono state date e rilasciate dall'assessore alle risorse agricole e forestali Cristiano Sciavoli che ha detto un territorio che solo artificiali e i confini politici hanno diviso si ritrova ora unito per valorizzare la propria storia, il proprio paesaggio e in definitiva le proprie prospettive future, una sfida vinta in termini di unicità per un territorio in chiave turistica, economica ma anche e soprattutto in termini culturali e si parla di questa candidatura a patrimonio UNESCO come una sfida che di fatto è già stata vinta per quelli che sono i principi ispiratori e si sottolinea come la stessa sia fortemente sostenuta dalla regione, un iter partito nel 2015 che la regione sta spingendo con grande volontà e grande voglia, tra l'altro approfittiamo magari per ricordare anche quelli che sono gli altri patrimoni UNESCO in Friuli, si parte da una pagina che ricorda come tra le tante iniziative legate ai Longobardi in Italia ci sia il tempietto Longobardo in quella di Cividale del Friuli ma poi ancora l'area archeologica di Aquileia e la Basilica Patriarcale passando per le Dolomiti che inevitabilmente sono un altro scorcio bellissimo della nostra regione e i siti palafritticoli dove troviamo la palù di Livenza Santissima appunto in provincia di Pordenone, questi alcuni dei quelli che sono gli scorci più belli ma soprattutto che hanno, che sono riusciti a conquistare l'iscrizione all'UNESCO e chissà che non possa ampliarsi questa lista anche perché c'è in ballo anche Palmanova. C'è in ballo anche Palmanova, infatti tra tutti i siti forse quello palafritticolo è quello meno conosciuto, io personalmente non sapevo di questo riconoscimento, Aquileia, Cividale, si conoscono anche le Dolomiti molto più recente però questo sito era un po' sconosciuto, non è molto noto. Maurizio, Palmanova a che punto è con la candidatura? Allora andiamo a leggere anche un articolo a questo punto legato proprio a Palmanova perché l'UNESCO l'ha inserita nella finale a sei e tra le città promosse dall'ente di valutazione Icomos, notizia che è dello scorso 10 maggio con il sindaco che ovviamente ha accolto con piacere questa notizia, una tappa fondamentale dell'Iter e le novità riguardano appunto l'iscrizione in questa lista ristretta, ha parlato anche di questo la Presidente Serracchiani, manteniamo intatto l'impegno a fare della Città Stellata un centro d'attrazione turistico, valutazione favorevole che è espressa in forma di raccomandazione per il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO che dovrà prendere una decisione definitiva sulla candidatura durante l'Assemblea Generale che si terrà a Cracovia dal 2 al 12 luglio, quindi ne sapremo di più. Ci siamo perché manca davvero poco per questo verdetto importante anche per il futuro di Palmanova. Sindaco come abbiamo visto l'Iter è davvero lungo, Palmanova è da qualche anno forse anche più impegnata in questo percorso. La candidatura del Coglio a che punto è? A che punto siamo? Così spieghiamo anche com'è questo questo Iter molto lungo, faticoso e che prevede anche l'elaborazione di dossier molto precisi, molto dettagliati. A che punto siamo? Siamo nella fase di aver costituito un comitato tecnico scientifico. È bene precisare che noi siamo partiti nel 2014 a lavorare a questo progetto, in particolare a Dolenio del Coglio e Burda, per poi estenderlo a tutti i comuni che sono stati coinvolti per parte italiana e a tutte le istituzioni. Il passaggio fondamentale che è stato fatto è stato fatto nell'aprile 2015 in cui abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa che impegnava tutte le parti istituzionali a perseguire il percorso per arrivare a presentare questo progetto e poter redigere un dossier tecnico scientifico da presentare nella tentative list. Questo protocollo di intesa è stato sottoscritto in un luogo simbolo, in una cantina nel territorio del Coglio, in particolare a Dolenio del Coglio nella frazione di Rutars e ha visto le sottoscrizioni da parte non solo dei comuni ma da parte anche della regione, in quell'occasione era presente il Presidente del Consiglio Franco Jacop, da parte di altre istituzioni anche che rappresentano il territorio magari privati, diciamo così. Mi riferisco in particolare alla fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, mi riferisco alla stessa Camera di Commercio di Gorizia che poi è ratificato anche recentemente in quanto si è associata alla Camera di Commercio di Trieste, mi riferisco allo stesso consorzio di tutela dei vini Coglio che è a sede a Cormons e che raggruppa la quasi totalità delle aziende vitivinicoli presente nel territorio, ma mi riferisco anche ad altri istituti che hanno voluto dare il loro consenso che stanno continuando a supportare il progetto. In quell'occasione il protocollo fu sottoscritto ovviamente anche dal Comune di Burda e per la parte istituzionale della Repubblica di Slovenia era presente anche un funzionario del Ministero della Cultura e del Turismo che ha recepito lo stesso protocollo. Perché ricordiamo che il Ministero della Cultura ha un ruolo chiave poi nel prosieguo di questa candidatura perché è al Ministero della Cultura che sarà destinato un dossier che voi adesso state elaborando, giusto? Esatto, perché il primo passo è stato quello appunto di costituire un comitato istituzionale e promozionale, il secondo passo è stato quello di indicare da parte di tutti i soggetti e gli enti coinvolti, dei professionisti nei vari settori, stiamo parlando dal settore dell'agronomia in questo caso al settore dell'enologia ovviamente, ma anche al settore della cultura, al settore della linguistica, al settore della storia, geologi, urbanisti, architetti e parecchi professionisti che messi assieme hanno costituito questo comitato tecnico-scientifico che ha già iniziato a lavorare perché siamo già al quinto appuntamento che si è svolto nei comuni in particolare capofila e che sta redigendo questo dossier tecnico-scientifico che verrà presentato attraverso il Ministero dei beni e attività culturali per poter essere inserito in quella che si chiama la cosiddetta tentative list, dossier che dovrà essere quindi vagliato non solo dal MIBACT ma anche dagli enti che collaborano sia col Ministero dei beni e attività culturali italiane ma anche con lo stesso Unesco, è già stato ricordato e sono in particolare l'ICOMOS che è quell'ente che effettua le verifiche tecniche, fa i sopralluoghi, per esempio nel caso di Palmanova visto che prima è stata citata Palmanova, non più tardi di alcuni mesi fa, è stata soggetta appunto a questo tipo di controllo e lo ha superato e come è stato detto adesso sta per essere riconosciuta a patrimonio mondiale. Volevo precisare ancora una cosa, per quanto riguarda i siti che sono già stati riconosciuti a livello di Regione Friuli Venezia Giulia, stiamo parlando soprattutto di siti seriali nel senso che sia per Cividale, sia per le Dolomiti e sia per Palmanova sono siti inseriti in una candidatura che comprende più realtà, più luoghi ove la cultura e l'arte longobarda o le fortezze veneziane nel caso di Palmanova o il paesaggio nel caso delle Dolomiti, si ripetono e quindi si definiscono seriali. Un'altra cosa che volevo precisare, proprio per rimarcare il fatto che il nostro progetto di candidatura non è un progetto che vuole essere una fotocopia di siti già riconosciuti, nella fattispecie il sito dei paesaggi vitivenicoli del Piemonte, Langeroero Monferrato e il sito che è in itinere della Val do Biadene col Prosecco in Veneto, la definizione corretta che noi abbiamo coniato per questo progetto è Coglio-Burda, paesaggio rurale tra Isonzo e Iudrio, proprio per comprendere all'interno di questa definizione il concetto che si tratta di un paesaggio rurale che ha all'interno caratteristiche sì di paesaggio vitivenicolo, di paesaggio naturalistico ma anche, torno a ripetere, di storia, cultura, tradizioni, lingua e quant'altro insomma è possibile inserire. È una candidatura che è appunto un'area che come abbiamo detto ha diversi aspetti, diversi elementi da valorizzare. Adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi saremo di nuovo assieme, torneremo anche da Francesca Santoro per andare a scoprire un'altra parte del Coglio. Rimanete con noi. Eccoci di nuovo in diretta per quest'ultima parte di Buongiorno Friuli che oggi ci sta portando a scoprire una zona, un'area della nostra regione molto bella, il Coglio, un'area che si è posta a un obiettivo ambizioso, quello di entrare a far parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO assieme alla Börda che è il Coglio sloveno. E proprio di questo parliamo con il sindaco di Dolenia del Coglio Diego Bernardis che saluto di nuovo assieme al nostro Maurizio Ferrari e anche assieme a Francesca Santoro che si trova proprio sul Coglio. Maurizio adesso sta andando a Villarussi, se tra poco ci collegheremo con lei, prima però Maurizio questa mattina non abbiamo ancora aperto una finestra sulla cronaca, sugli ultimi fatti, allora a te la linea per tutti gli aggiornamenti. Stavamo parlando di bellezze del mondo e purtroppo adesso vi dobbiamo parlare anche un po' di cronaca. Partiamo dall'Italia con una notizia che riguarda l'Andrangheta, ha sequestrato un milione di euro a membri della Cosca Alampi. Notizia di questa mattina, i carabinieri della Guardia di Finanza hanno sequestrato bene appunto per un milione di euro agli avvocati ed ex coniugi Giulia Maria Rossana Dieni e Giuseppe Putorti al commercialista Rosario Spinella, tutti legati a vario titolo all'Andrangheta e c'era nel mirino i membri della Cosca Alampi per l'appunto. Poi notizie di carattere internazionale, la Corea del Nord, gli USA e la Cina preparano una risoluzione di sanzioni all'ONU. Continua ad essere ovviamente centrare il tema della Corea che vede anche l'Italia tra l'altro protagonista con l'ONU che sottolina come l'Italia sia pronta a rafforzare il regime sanzionatorio in risposta alle violazioni della Corea del Nord. Lo ha affermato il rappresentante permanente italiano Sebastiano Cardi. Una notizia invece un pochettino più positiva, quantomeno su questo fronte il fatto che Seul stia spingendo per la riapertura del dialogo tra i due stati, tra la Corea del Nord e del Sud, che chissà magari possa essere un passo importante per cercare di calmare un po' una situazione di grande tensione internazionale. Tensione che riguarda anche gli Stati Uniti, lo sappiamo c'è questo discorso, questo nuovo tema molto caldo riguardo a Trump con la Camera che ha chiesto i documenti delle comunicazioni tra Trump e Comey. C'è tutta una serie di valutazioni in corso sul possibile scambio di informazioni tra gli Stati Uniti e il suo Presidente e la Russia. Insomma un gran casino lo possiamo dire senza mezzi termini. E infine una situazione molto delicata, quella del Venezuela, con grande tensione in Brasile per l'ondata dei rifugiati, anche questo un tema che stiamo seguendo, l'abbiamo fatto anche con un approfondimento proprio qui su Donizia TV, in virtù dei tanti italiani che sono presenti nel paese, dei tanti europei in generale che sono presenti in Venezuela, una situazione di grande tensione, possiamo dire ai limiti della guerra civile, forse quel limite è già stato superato. Tanti friulani anche, proprio nei giorni scorsi abbiamo raccolto anche l'appello di un giornalista venezuelano che era presente a Udine nell'ambito di vicino e lontano e che ricordava le difficoltà che tanti friulani che sono presenti e che vivono in Venezuela hanno proprio anche nell'uscire dal paese. Quindi una situazione davvero molto difficile. Ritorniamo a parlare di temi un pochino più belli, un pochino più piacevoli. Allora, ritorniamo anche da Francesca Santoro che oggi è in giro, diciamo così, sul Coglio, attornata da questi bei vigneti, da questo bel paesaggio. Francesca, a te la linea. Rieccoci Angela, siamo a Villa Russiz, quello che state vedendo è il mausoleo che è vicino proprio alla villa. Qual è la storia di questo edificio? Eh, questa è una storia che io definisco una favola. È una storia che nasce nel 1868 da un matrimonio di una contessa protestante con il conte cattolico. Scandalo di fine ottocento, la famiglia Ritter regala un appazzamento di terra proprio qui a Russiz dove iniziano due grandissime storie. La storia vitivinicola portata avanti dal conte che inizia a curare e a importare anche i primi vitigni francesi. Qua il conte, oltre le rose, regalava le specie francesi di vite alla contessa. E la contessa invece inizia a spendersi, cosa che farà per tutta la sua vita, verso i più bisognosi, i bambini orfani, i bambini poveri che venivano da tutto il territorio qui circostante e che lei addirittura dedicò la prima scuola in cui insegnare a leggere e scrivere alle bambine, cosa che seppur avanzata scuola austriaca la scuola popolare del paese non permetteva. Quindi ulteriore motivo di scalpore all'epoca? Assolutamente sì, infatti ci sono anche documentate, insomma lettere dal Papa verso il Vescovo che chiede l'UMI sull'accaduto. Scoppia la prima guerra mondiale, la contessa deve scappare, finisce in un giro europeo proprio nella comunità di Treffen, che oggi è poi gemellata con la comunità di Capriva, legata proprio dalla figura della contessa, dove ricrea la stessa identica favola, un altro edificio, un'altra struttura dedicata ai più bisognosi, che ancora oggi continua e ha il nome del conte, quindi si chiama Diaconine della Tour, mentre qui abbiamo la struttura Villarussis, che porta avanti la casa famiglia Elvina Ritter. Questo è una cosa importante per la storia, ma anche per gli edifici, colgo l'occasione anche per salutare l'amico Franco Bocchieri, che è responsabile del nord-est Italia dell'ICOMOS, che è proprio l'ente che cura gli aspetti degli edifici storici all'interno delle candidature. Quindi questo è un altro degli aspetti su cui voi dovete puntare per questa candidatura a UNESCO? Assolutamente sì, il fatto di valorizzare, mantenere edifici storici come questi, appetibili poi a livello turistico, è uno degli obiettivi che ci portiamo all'interno di questa nostra avventura che abbiamo intrapreso e quindi sarà un'altra cosa molto importante. Grazie Sindaco, noi adesso ci spostiamo in un altro punto panoramico di Capriva per per mostrarvi ancora altre bellezze di questo luogo. Grazie, grazie allora Francesca Santoro. In attesa dell'ultimo collegamento, Maurizio, vengo da te per qualche altro spunto dal web. Sì, andiamo a vedere anche quello che è un appuntamento proprio legato al Collio, un appuntamento che vedrà protagonista venerdì 19 maggio l'attivissima Cormons Libri. verrà presentato proprio un libro chiamato Collio, semplicemente, è molto chiaro, venerdì 19 maggio alle 18.30, ecco qui vediamo anche quella che è la copertina, sarà protagonista del settimo incontro di Libriamo Negli Eti Calici, la rassegna libraria organizzata dall'amministrazione comunale di Cormons e questo libro sarà un fulcro al quale ruoteranno i racconti di questo evento in sala di rappresentanza del comune di Cormons. Sarà presentato dagli autori Valentina Brunello e il fotografo professionista Massimo Crivellari, un libro illustrato che viene definito un vero e proprio viaggio nel mistero dei paesaggi di questo territorio che prende i nomi diversi come abbiamo raccontato, Collio in italiano e Borda in sloveno e quindi un appuntamento per scoprirne ancora di più anche con l'ausilio di una pubblicazione. Sindaco, voi state cercando anche attraverso diversi avvenimenti sul territorio di promuovere, di far conoscere questo vostro progetto. Cosa c'è in programma ancora? Sicuramente ci sarà qualcosa legato a quello che è la cosiddetta manifestazione del premio Coglio che organizza il consorzio di tutela che ha sede a Cormons. Sicuramente ci saranno altri eventi, eventi ci sono già stati recentemente proprio nel comune di Cormons in occasione dell'ecomaratona del Coglio ma anche in occasione del trial bike legato alla bicicletta, i percorsi che sono stati fatti a inizio maggio. In passato abbiamo avuto occasione di legare il progetto alla festa del vino, in comune di Dolegna la nostra giornata di ringraziamento, in comune di Capriva con calici di stelle in agosto. Gli appuntamenti ce ne sono stati, ce ne saranno tanti. Siamo riusciti a realizzare questo tipo di promozione, di divulgazione che deve essere rivolta anche ovviamente ai cittadini, è una condizione sine qua non come si suol dire, per coinvolgere tutto il territorio e tutta la comunità in maniera tale che sia consapevole di questo progetto. Siamo riusciti a realizzare grazie all'aiuto delle istituzioni, degli enti ma grazie anche all'aiuto per esempio che da subito hanno prestato il loro indirizzo e la loro opera, degli stessi club UNESCO, in particolare il club UNESCO di Udine rappresentato dalla professoressa Renata Capria D'Aronco e il club di Gorizia attraverso il professor Maier ma anche attraverso l'architetto Elisa Trani che poi è divenuto in particolare il coordinatore del comitato promozionale e anche del comitato tecnico-scientifico. Quindi mi sembrava giusto cogliere l'occasione anche per ringraziare loro. Il loro lavoro. Come sono i rapporti con la Slovenia, con il comune di Verda nella messa a punto di questo progetto? Marciano bene? C'è un buon dialogo? Perché in passato c'erano stati anche dei dibattiti, delle polemiche anche sull'utilizzo del nome coglio da parte della Slovenia. Adesso come stanno andando le cose? Le cose stanno andando molto bene perché finalmente si è capito che facendo un lavoro sinergico e di promozione ovviamente arriveremo prima all'obiettivo speriamo di riconoscimento di questo progetto, di questa candidatura e soprattutto riusciremo anche a cooperare dal punto di vista tecnico anche per riuscire magari un domani, un altro sogno nel cassetto, ottenere delle regole che siano comuni sia per la parte agricola italiana sia per la parte slovena. In questo contesto devo ringraziare soprattutto la regione e l'assessore regionale Cristiano Schaurli che da subito ha colto l'opportunità e ha colto la possibilità che da questo tipo di progetto proprio per lavorare in sinergia anche a livello di istituzioni che rappresentano l'agricoltura, la vitivinicoltura e non solo. Vedo quasi pronta Francesca per un altro collegamento dal coglio, tra l'altro oggi un coglio particolarmente vicino all'udinese o meglio il mondo dell'udinese particolarmente vicino al coglio perché oltre all'approfondimento di oggi sindaco questo pomeriggio anche la squadra farà visita a una realtà del coglio. Sì esatto abbiamo il piacere e l'onore di ospitare l'udinese l'intera squadra che oggi visiterà la proprietà di una nota azienda agricola che è sita a Dolegna del Coglio e quindi potrà degustare, assaporare i vini bianchi soprattutto e poi farà una sosta penso piacevole anche in un locale che è di proprietà della stessa azienda vitivinicola in cui assaggerà anche le prelibiatezze gastronomiche che sono un'altra delle peculiarità di questo nostro territorio. Maurizio ci sarai anche tu a accompagnare la squadra in qualità. A questo punto visto che sono presente approfittiamo per informare anche i nostri telespettatori che ci seguono proprio per questo appuntamento già ieri si era notato qualcosa l'abbiamo raccontato nel nostro allenamento non è stato un semplice allenamento di scarico ieri ma un allenamento praticamente completo a cui seguirà questa mattina una seduta e non la seduta del pomeriggio quindi per chi anche ci segue a Bruseschi l'invito è di presentarsi alle ore 11 perché sarà l'unica seduta di quest'oggi non cambia invece l'appuntamento con pomeriggio calcio perché le nostre telecamere scenderanno in campo proprio questa mattina e vi forniremo il consueto appuntamento con l'allenamento quindi alle 15.30 ci sarà comunque indifferita l'allenamento del giorno mentre la squadra sarà proprio in questa bellissima realtà per assaporare me compreso quindi sono fortunato anch'io quest'oggi le tipicità e questo questo buon vino e anche altri prodotti siamo siamo curiosi siamo assolutamente curiosi e anche la squadra da scoprire ovviamente non vado da solo ci mancarebbe sindaco rimanendo sull'attualità venerdì a dolegna del coglio ci sarà anche l'inaugurazione di un impianto molto importante per per questo territorio un impianto di irrigazione ci dice esattamente di cosa si tratta e perché era così atteso dal dal territorio soprattutto dal dai viticoltori del del coglio certo si tratta di un'opera che è stata realizzata grazie a un contributo regionale che ha preso avvio un progetto che ha preso via tra l'altro quasi dieci anni fa e che siamo riusciti a concretizzare un'opera realizzata attraverso il consorzio di bonifica pianura esontina si tratta di un invaso di circa 20 mila metri cubi che servirà a scopo plurimo ovvero servirà principalmente per l'irriga portare l'irrigazione in collina per ovviamente i vigneti e le culture a vigneto che sono nell'arco del territorio riuscirà a coprire una superficie di circa 100 ettari di vigneto che non sono tutta la parte coltivata vigneto del comune ma sono una parte importante quindi le aziende beneficeranno di questa di questa struttura e soprattutto nei periodi ovviamente di siccità che purtroppo sempre più spesso ci hanno abituato soprattutto nei mesi estivi ma recentemente anche nei mesi invernali quindi di conseguenza si tratta di una opera prima nel suo genere nella regione Friuli Venezia Giulia che vuole dare una mano concreta ai viti vinicoltori e alle imprenditoria in questo settore e che potrà a questo punto penso essere replicata e essere presa modella anche nel resto della regione in altre parti della nostra regione allora ritorniamo adesso da Francesca Santoro per un ultimo collegamento dal Coglio a voi Francesca Sì Angela siamo in località Budignacco un altro bellissimo panorama per rimarcare una caratteristica importante di tante realtà produttive di questa zona. Sì è una cosa che la diciamo per ultimo ma non per l'ultimo come come importanza tutte queste realtà di a conduzione familiare aziende portate avanti dai figli nate con i padri nonni e bisnonni tutte quante a conduzioni familiari piccole realtà così capillari su questo territorio che portano avanti quotidianamente con il proprio lavoro il proprio sudore di famiglia l'azienda delle proprie famiglie e che con un altro aspetto che si può avvicinare come valore è quello poi del mondo delle associazioni. Io credo che questa candidatura UNESCO sarà una grandissima occasione comunque vada noi ci crediamo ma comunque vada sarà un percorso da fare assieme e farlo assieme alle tante proloco alle tante associazioni di volontariato alle tante associazioni di promozione turistica nate che nasceranno sarà qualcosa che arricchirà comunque questa comunità questo territorio e credo che in ogni caso avrà valso la pena crederci e percorrere appunto questa strada insieme. Grazie sindaco di Capriva Daniele Sargon che ci ha accompagnato in questo tour sul Coglio se non avete domande per il mio ospite io vi restituisco la linea. Grazie Francesca per questi collegamenti grazie anche alle immagini di Fabio Di Bernardo che ci hanno mostrato appunto questa bellissima realtà della nostra regione questo bellissimo paesaggio noi siamo in dirittura ad arrivo siamo un po' verso la chiusura quindi riprendiamo la linea dallo studio perché come ogni mercoledì adesso è il momento delle anticipazioni degli articoli pubblicati dalla vita cattolica in edicola questa settimana in edicola da oggi e al telefono con noi abbiamo il direttore Roberto Pensa buongiorno Roberto buongiorno a te e a tutti i telespettatori vediamo già alle mie spalle adesso a schermo intero la prima pagina della vita cattolica da oggi in edicola il tema di apertura sesso le esitazioni dei giovani friulani tra disinformazione e superficialità Roberto perché questa apertura e siamo partiti dal caso di pronaca di Trieste di una decina di giorni fa il caso drammatico appunto di una ragazza di una sedicenne che ha parturito diciamo da sola in casa insomma ha condotto tutta la gravidanza diciamo di nascosto anche dalla famiglia e poi questa bambina la bambina che è nata è stata appunto abbandonata in un giardino è un così drammatico caso che chiaramente tutti hanno seguito con grande emozione e ci siamo chiesti e chiaramente questa storia diciamo almeno come è stata raccontata diciamo di prima a chitto comporterebbe appunto una situazione molto particolare perché in un mondo in cui in teoria anche le informazioni sul sesso sulla gravidanza sul sui metodi anticoncezionali insomma sono informazioni ormai molto disponibili ai giovani anche tramite la rete e sembra appunto impossibile che oggi nel 2017 possano succedere ancora casi del genere e quindi abbiamo voluto un po' approfondire il tema del rapporto appunto del mondo giovanile nei confronti della propria sessualità e così abbiamo fatto un'intervista per esempio la sessuologa Elisa Bastiani che ormai da anni ogni anno scolastico praticamente ha a che fare con migliaia di ragazzi nelle scuole superiori della provincia e ci ha raccontato un po' che purtroppo questa realtà diciamo di ignoranza è molto è molto diffusa quindi in realtà la rete come accade anche in altri campi non sempre offre una grande mole di notizie però non una guida sicura a comprendere a comprendere le cose quindi da un lato appunto c'è c'è questa disinformazione c'è anche una cultura di superficialità con cui molto spesso si affrontano i rapporti però ci sono anche degli elementi in controtendenza per esempio non c'è come diciamo anche le nostre interviste hanno evidenziato non c'è per esempio la corsa alla prima volta diciamo in modo molto precoce anzi i ragazzi friulani dimostrano in questo una certa una certa maturità una certa capacità anche di aspettare diciamo il momento giusto diciamo per farlo in cui c'è la sufficiente maturità e conoscenza di essi e quindi diciamo un rapporto in chiaro scuro e che evidenza però anche degli elementi di positività cosa ci segnali di altro questa settimana sulla vita cattolica parliamo ancora del caso vaccini perché c'è un po monta la rivolta dei genitori che non vogliono rivaccinare i figli senza sapere prima con un test se effettivamente non hanno gli anticorpi appunto per le malattie per cui sono stati appunto in teoria vaccinati dall'assistente Petrillo e quindi non si sa se effettivamente siano coperte sappiamo che già un centinaio hanno chiesto di fare il test hanno anche ottenuto da parte della regione che ci sia l'esenzione diciamo dal pagamento del ticket ma ecco da quello che abbiamo potuto capire a Codroipo dove continua l'operazione vaccinare sì in realtà sono molte di più le famiglie che non si presentano all'appuntamento diciamo fissato per vaccinare i propri i per rivaccinare i propri figli e a questo proposito c'è anche una presa di posizione del molto dura dell'Ecomilva che è appunto il comitato a livello nazionale che sostiene la libertà di vaccinazione quindi sostanzialmente diciamo è contro le vaccinazioni obbligatorie ed avanza anche dei suoi vaccinazioni e diciamo delle per crescita di carattere sul fatto che in realtà la Petrillo non può essere considerata l'unica responsabile ma in realtà c'è tutta una questione organizzativa di controlli e di verifiche che non è stata fatta negli anni scorsi e quindi anche sollecita la magistratura anche a controllare per esempio ecco come i vaccini vengono conservati se vengono conservati in maniera corretta e chiede che si è fatta una verifica seria anche diciamo a vasto raggio non solo che riguarda quello che ha fatto la Petrillo per verificare se nella diciamo nella filiera delle vaccinazioni tutto è fatto diciamo a regola d'arte. Insomma la campagna di vaccinazione di richiami che ha avviato questa task force non ha risolto il problema non ha spento tutte le polemiche anzi ha rinfocolato il dibattito su un argomento sicuramente al centro dell'attualità. Grazie e grazie Roberto Pensa per queste anticipazioni ricordiamo da oggi la vita cattolica in edicola. Ciao Roberto ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a te e un saluto a tutti. Ringraziamo il direttore della vita cattolica Roberto Pensa. Noi siamo in chiusura di questa nostra trasmissione di questo nostro approfondimento Sindaco per chiudere ricordiamo un riconoscimento che il Collio ha già avuto quello da una guida importante dell'Only Planet. Non più tardi di un anno fa la rivista mondiale l'Only Planet la rivista australiana che cura il settore turistico a livello mondiale ha inserito la regione Friuli Venezia Giulia tra i 10 siti da visitare nel corso di quest'anno e una peculiarità che vale la pena visitare l'ha riconosciuta nell'areale del Collio quindi ha dato il sigillo anche a questo punto al nostro progetto per intraprendere questo percorso e per valorizzarlo dal punto di vista turistico a livello mondiale. E anche una valorizzazione turistica che avrebbe sicuramente delle ricadute economiche molto importanti per il territorio per tutta la regione. In bocca al lupo Sindaco per questo progetto. Buon lavoro. Grazie allora al Sindaco di Dolenia del Collio Diego Bernardi per essere stato con noi. Maurizio non ci sono aggiornamenti importanti da dare? Non ci sono aggiornamenti rilevanti ricordiamo però ancora una volta i nostri telespettatori che ci seguono l'allenamento quest'oggi solo alle 11 perché alle 15 saremo appunto in visita al Collio. Sul Collio invece vi ricordo velocemente con l'aiuto della regia anche gli altri appuntamenti di oggi su Dinese TV alle 21 il nostro speciale del TG si parlerà di alimentazione, mode e intolleranze alle 22 invece i grandi che hanno fatto la storia. Questa sera si parlerà di Mario e Luigi Danieli a cura di Massimo Campazzo. È davvero tutto per questa mattina, io vi ringrazio per essere stati con noi e ci rivediamo domani mattina puntuali alle 7 per una nuova puntata di Buongiorno Friuli.